Ben ritrovati dagli studi di TV Marche per Buongiorno TV, la nostra e anche la vostra, soprattutto rassegna stampa con le principali notizie. Andiamo avanti con anche le vostre segnalazioni e i vostri messaggi. Vi mostro questa foto che ci è arrivata da Pesaro ed è di una nostra amica Cinzia che mostra un tramonto meraviglioso della giornata di ieri. Grazie Cinzia, utilizziamo questo tramonto anche per salutarti e augurarti una buona giornata che evidentemente ha iniziato in nostra compagnia. Se volete scriverci il numero lo conoscete 349 3918 169 per interagire con noi, per parlare con noi e per scambiare pareri, impressioni, opinioni e anche per fare l'augurio a un vostro parente più caro. Come ha fatto? Credo questa nonna, credo questa nonna, ma comunque vi mostro questo scatto. Questa signora dice buongiorno, la nostra principessa Sole ha compiuto un anno. Gli fa gli auguri da parte del papà, la mamma, il fratellino e i nonni Rita e Benito da fermo? Certo, signora Rita, lo faccio subito e mostro anche la foto della piccolina che ha compiuto un anno, principessa l'ha detto la nonna, sole si chiama. Questo è un altro vostro messaggio, poi ci state scrivendo naturalmente anche sulla pagina Facebook, scorro alcuni dei vostri pensieri. Se avete temi, ricordo, potete farcelo presente e come di consueto, ecco qua, tutti i vostri messaggi che ci stanno arrivando. Abbiamo parlato di terremoto, abbiamo parlato anche però di furti e in particolare, prima vi mostravo questo video che fa riferimento all'irruzione all'interno dell'abitazione del deputato, leghista Mirko Carloni. È odioso il fenomeno dei furti, tanto più se perpetrato nei momenti in cui le persone sono di fatto impotenti, perché non ci sono, non sono presenti a casa, come è accaduto a lui, che era ovviamente a Roma. In questo momento a casa non c'erano neppure la moglie e la figlia perché si trovavano a cena fuori. Questo appunto è il momento in cui una terza persona si avvicina, ce n'era un'altra che faceva da palo, parrebbero essere almeno tre persone che hanno compiuto il blitz. Poi però vi rimando anche alla notizia che abbiamo raccontato stamattina, la sua intervista rilasciata al Carlino di Pesaro. Colpo nella villa di Carloni, rubati soldi, orologi e due pistole, che paura. Soprattutto mia figlia. Il deputato era a Roma, la moglie e la bambina fuori a cena. Lei non ha dormito per tutta la notte. Uno dei malviventi è stato ripreso dalle telecamere, anche in maniera piuttosto evidente. Hanno trafugato le armi all'interno di un armadio, poi aperto con il piede di porco. Mi dispiace per quel Rolex, me lo avevano regalato i miei genitori in occasione della laurea, per quello che dicevo prima, proprio questo legame anche affettivo con gli oggetti più cari. E poi appunto come hanno compiuto il blitz, un palo per aiutare i complici segnalando movimenti sospetti. Aperta la porta sul retro della casa e poi i malviventi si sono introdotti all'interno. Stiamo sulle notizie. Vi porto a questa che arriva dall'area del cratere sismico, perché è arrivata una storia che vorrei mostrarvi tra un attimo. Ovvero l'assoluzione di una donna di 95 anni. Ecco qua. Calvario finito, il giudice assolve terremotata Arquatana di 95 anni. Era accusata di aver percepito indebitamente il contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto CAS. Non era bastata l'ammazzata del terremoto a privarla, poverella, dell'abitazione ad Arquatana del Tronto, ma ha vissuto gli ultimi tre anni nell'incubo di essere condannata alla veneranda età di 95 anni per l'indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione. Finalmente però, con la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, è finito il calvario per Api, terremotata di 95 anni, difesa dall'avvocato Alessandra Ruggeri. I controlli erano scattati a seguito di alcune verifiche sui presunti consumi anomali di acqua, luce e gas nell'abitazione dichiarata inagibile e poi accuse contestate dalla nonina terremotata anche considerando l'elevata età e le difficoltà che si possono incontrare con queste macchinose procedure relative al post-sisma. Una bella notizia per lei, c'è anche questa notizia che vorrei mostrarvi e che riguarda sempre le scuole del cratere. È arrivato un annuncio da parte della parlamentare e anche ex assessore all'istruzione scuola e cultura Giorgia Latini, ovvero la possibilità di deroga per il numero minimo degli studenti al fine di comporre le classi nell'area del sisma. Ma la ascoltiamo nel corso della sua dichiarazione alla Camera. Con questo ordine del giorno volevo solamente intanto ringraziare il Governo perché attraverso questo decreto sisma finalmente si è apportata una deroga importante del numero minimo delle classi nell'area del cratere. Senza questa deroga purtroppo, Presidente, che è stata chiesta da anni da tutti i sindaci del territorio, le classi non si potevano formare in questi piccoli borghi che ovviamente hanno sofferto lo spopolamento con il sisma. E quindi attraverso questo DG si chiede un'interpretazione estensiva e una precisazione che questo provvedimento deve essere esteso a tutte le scuole dell'area del cratere, a tutte le istituzioni scolastiche e non solo alle ovviamente scuole che sono inagibili. Perché ad oggi, visto che il sisma è del 2016-2017, ecco, tante scuole sono state ricostruite. Sono state ricostruite con i fondi sisma, sono state ricostruite o stanno in fase di ricostruzione con i fondi anche PNRR e quindi non possono rimanere vuote. Quindi sappiamo che la scuola è un presidio fondamentale per far ritornare le famiglie in questi luoghi e quindi anche nella Commissione Cultura e Istruzione, dove ero relatrice quando abbiamo affrontato questo tema abbiamo dato parere favorevole a questa interpretazione appunto estensiva affinché appunto ci sia questa deroga in tutte le scuole del cratere. Quindi ringrazio intanto il Governo perché ha trovato delle risorse e soprattutto perché questo intervento è strutturale. Non parliamo di un anno ma parliamo di quasi di sei anni perché arriviamo, queste risorse arrivano a coprire la necessità appunto per dare la possibilità ai dirigenti dell'ufficio regionale scolastico di assumere più insegnanti e più personaggi. Le marche protagonisti a Montecitorio Ok, torniamo in onda, eccoci qua, vi volevo mostrare anche un altro servizio prima di cominciare con il nostro ospite abbiamo sentito insomma le dichiarazioni di Giorgia Allattini in merito alla deroga arrivata per il numero minimo al fine di comporre le classi nell'area del cratere ma vorrei mostrarvi anche questo servizio che invece arriva da Montecitorio dove la professoressa Rossana Berardi, dirigente della clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche è stata protagonista il 7 marzo nell'ambito di un evento Donne che curano si è parlato di ricerca e poi lei ha fatto anche un appello al mondo istituzionale per superare il gender gap vi mostro questo servizio Le marche protagonisti a Montecitorio grazie al ritorno in presenza di donne che curano una tavola rotonda tra professioniste dell'oncologia, istituzioni, associazioni e aziende all'iniziativa di carattere nazionale promossa martedì 7 marzo ha preso parte anche la dirigente della clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche Rossana Berardi, la professoressa peraltro presidente dell'associazione Women for Oncology Italy ha lanciato un appello al mondo delle istituzioni e politico sul gender gap nel mondo sanitario e accademico ma anche per riconoscere le opportunità di chi cura e di chi viene curato Da un lato nel tentativo di promuovere una parità di genere in ambito ospedaliero e accademico chiediamo che gli obiettivi di coloro che hanno delle posizioni apicali mi riferisco a direttori generali, direttori di impartimento, direttori di struttura possano essere valorizzati nell'ambito di una crescita e anche acquisizione di ruoli apicali che tenga conto di entrambi i generi e quindi che ci possa essere un effettivo meccanismo premiante per coloro che riescono a far crescere donne e uomini a parità di merito dall'altro canto ci promuoviamo di realizzare sempre di più un'oncologia e una medicina attenta alla persona alla persona nelle sue sfumature di genere inteso come sesso biologico ma anche come genere dal punto di vista socio-sanitario sappiamo che donne e uomini anche da questo punto di vista possono avere delle differenze e nostra forte volontà a cercare di supportare tutti Nel corso dell'incontro si è fatto riferimento alla disparità di accesso alle cure sperimentali per la battaglia contro il cancro con numeri a supporto che lasciano pochi spazi ai dubbi su 100 pazienti oncologici arruolati nei protocolli di curi sperimentali per il cancro in media 70-80 sono uomini, solo 20, al massimo 30 donne E questi insomma numeri che fanno riflettere in merito alla sanità territoriale ma anche in generale a quella nazionale e in questo caso specifico si parlava di oncologia e della possibilità che ad alcuni viene negata di accesso alle cure sperimentali Parliamo invece e torniamo all'alluvione del 15 settembre perché ieri è proprio arrivata una notizia il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha firmato la declaratoria per attivare gli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale come possiamo vedere anche da questa schermata e in particolare il ministro in quota Fratelli d'Italia ha di fatto accolto la richiesta di proposta del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli questi contributi, questi ristori, questi interventi compensativi serviranno per dare la possibilità alle aziende colpite di ritrovare strutture fondamentali per la produzione perché accanto al dramma e alla perdita delle vite umane le infrastrutture dei beni più cari come la casa c'è stato anche il problema di tante imprese seriamente danneggiate nelle province in particolare di Ancona e di Macerata di questo parleremo assieme all'onorevole Stefano benvenuti Gostoli, deputato anconetano e coordinatore provinciale di Ancona che saluto e ringrazio per essere con noi in diretta stamattina Buongiorno Buongiorno, grazie a voi per l'invito Ben ritrovato negli studi di TV Marche insomma partiamo da questa notizia che lei ha commentato positivamente per ovvi motivi naturalmente arrivano contributi che interessano l'agricoltura e quanto sono importanti per far ripartire le nostre aziende più colpite e beh lei come giustamente sottolineava è una notizia estremamente positiva per il nostro territorio parlo di nostro territorio perché pur essendo un deputato della Repubblica è ovvio che il cuore, il mio cuore batte qua insomma nella regione, nel posto in cui sono nato, in cui vivo e quindi c'è sempre un'attenzione particolare soprattutto nel commentare le notizie positive e questo è un provvedimento estremamente importante per ripartire, credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo perché appunto attraverso il provvedimento che ha firmato l'altro ieri il Ministro riguardante la dichiarazione dello stato di eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno colpito come ben sappiamo insomma le Marche non solo nella zona alluvionata ma anche in una zona più estesa insomma e hanno insomma flagellato il nostro territorio ebbene questa dichiarazione di stato di eccezionalità degli eventi permette alla regione di poter accedere a un speciale fondo di solidarietà nazionale attraverso il quale possono essere ristorate e sanate alcune situazioni alcuni danni connessi sia alle strutture aziendali quindi private che alle infrastrutture destinate all'agricoltura quindi insomma è una possibilità che si apre estremamente importante per ripartire per dare ossigeno ai concittadini alle piccole e medie aziende, imprese che lavorano nel settore dell'agricoltura è un settore che insomma è scontato dire che incide sulla vita di tutti noi insomma perché poi quando l'agricoltura risente di danni pesanti è chiaro che questo poi a cascata va a danneggiare anche tutti i cittadini neanche non direttamente connessi al settore Certo, anche perché naturalmente sappiamo che tra le aree più colpite ci sono quelle rurali dove inevitabilmente si vive molto di produzioni agricole pertanto era importante che il governo facesse questo passo verso una richiesta che era arrivata in maniera abbastanza esplicita dal governatore Francesco Acquaroli cioè nell'esporre assieme al vice commissario tutte le criticità della regione Marche e le sofferenze dettate dall'alluvione c'era proprio anche il tema delle imprese agricole tre province in cui verranno attivati questi fondi Ancona, Macerata e anche Pesaro e c'è soddisfazione stata palesata dal quartiere generale di Fratelli d'Italia nelle Marche e penso che per lei sia un po' la stessa cosa che ne è uno dei rappresentanti Beh, senza altro quando il governo sia nazionale che regionale dà dimostrazione di questa efficienza nel gestire le situazioni credo che non possa che esserci soddisfazione lei giustamente prima ricordava che la richiesta al ministro Loro Brigida è stata fatta dal governatore Acquaroli ma questo è senz'altro vero ma non è solo questo cioè per poter ovviamente ottenere questa dichiarazione di eccezionalità degli eventi sono necessarie tutta una serie di attività di accertamenti tecnici, amministrativi e burocratici che molto spesso, ancorché siano posti a garanzia della regolarità della procedura comportano periodi piuttosto lunghi e invece in questo caso la regione è stata estremamente efficiente svelta e brava nello svolgere tutti questi adempimenti e ha permesso quindi al ministro di poter fermare a distanza di veramente pochi mesi dagli eventi calamitosi il provvedimento di cui stiamo parlando Stiamo parlando di agricoltura stamattina ma stiamo parlando anche di risorse attese ovviamente dai sindaci, dalle comunità ferite dall'alluvione che sono state anche annunciate di recente la prima tranche di quei 400 milioni sono in arrivo c'è attenzione da parte del governo la premier Meloni al momento del vostro insediamento perché anche lei insomma siede sui banchi del Parlamento a Roma ha parlato in maniera piuttosto chiara cioè ha detto le marche non le dimentichiamo affatto è così, insomma state traducendo in fatti concreti quelle parole? Beh credo che questo un po' sia sotto gli occhi di tutti insomma nonostante il governo si sia insediato a metà ottobre in una situazione di gestione di un'emergenza energetica ancora gli strascicchi di una pandemia insomma una situazione con una guerra dentro la casa europea credo che insomma non fossero le situazioni le condizioni ideali per poter gestire con serenità anche degli eventi calamitosi nonostante questo in tempi impossibili il governo ha stanziato delle somme estremamente importanti anzi anzi devo dire per quanto mi ricordi uniche nella storia del nostro territorio parliamo di 400 milioni di euro insomma quindi non di noccioline e in tempi altrettanto rapidi la regione è stata in grado di svolgere anche in questa occasione tutti gli adempimenti necessari per poter liquidare queste somme che adesso la prima tranche quasi 100 milioni di euro è già disponibile nelle casse regionali per poter chiaramente provvedere ai primi ristori alle prime emergenze insomma questo è un fatto estremamente positivo che come giustamente lei sottolineava è stato agevolato anche dall'assonanza politica che c'è tra governo regionale e governo nazionale che di certo insomma ha facilitato la collaborazione la sussidiarietà verticale tra enti Sussidiarietà verticale però di fatto continua questa sorta di collaborazione perché le Marche hanno bisogno dell'intervento da Roma lo hanno chiesto più volte ripeto amministratori e poi persone che vivono in quelle comunità feriti e mi pare di poter dire che comunque da parte vostra l'impegno, l'ho detto anche il Presidente continuerà, proseguirà perché poi adesso arrivano i primi ristori ma inevitabilmente le risorse per quanto accaduto stiamo parlando di una tragedia che ha consegnato purtroppo bollettini impietosi da un punto di vista delle morti 13 persone soltanto nella nostra ragione per quel 15 settembre maledetto e poi danni stimati all'inizio mi ricordo alcune dichiarazioni del Presidente forse per miliardi ancora devono essere quantificati però il governo c'è e ci sarà può dirlo questo insomma lei che ne è un rappresentante ma questo senz'altro io ho visto che c'è stato in Parlamento per quanto riguarda il ruolo che mi compete una grandissima disponibilità nel convertire nei tempi più ristretti possibili i provvedimenti del governo in legge che come sa vengono immediatamente emanati dal governo ma poi entro i 60 giorni devono essere trasformati in legge dal Parlamento devo dire che insomma rispetto a questo abbiamo avuto diciamo abbastanza collaborazione anche dalle opposizioni quando si tratta insomma di eventi calamitosi insomma ci si dovrebbe almeno teoricamente mettere un po' tutti dalla stessa parte insomma dalla parte di chi ha bisogno e comunque insomma credo che sia sotto gli occhi di tutti che si può contare insomma su una importante considerazione da parte del governo Meloni riguardo alle marche che insomma mi sembra che fino ad oggi siano state questo è un po' accettato da tutti come principio siano state poco considerate insomma meno di quello che avrebbero meritato e credo che insomma l'inversione di tendenza sia visibile sotto gli occhi di tutti Ecco a proposito del suo impegno in Parlamento volevo chiederle come sta andando questa esperienza a Roma alle commissioni di cui fa parte parlava del suo lavoro no? cioè insomma un'esperienza importante una domanda che noi da marchigiani rivolgiamo all'onorevole Stefano Benvenuti Costoli anche più personale come sta andando questa sua esperienza? Beh devo dire è un'esperienza estremamente coinvolgente molto importante anche di grande crescita personale questo bisogna riconoscerlo di grande responsabilità il peso della responsabilità vi posso garantire che si sente e poi certo comporta qualche problemino di gestione come dire di tutto il resto della vita perché poi insomma siamo persone anche noi abbiamo la nostra vita professionale, familiare insomma sebbene insomma quella professionale poi io come sapete svolgo la professione di avvocato che continuo a svolgere si riesce a conciliarla e devo dire anche grazie agli ottimi collaboratori che mi aiutano nella mia professione e poi dopo quella familiare comporta dei tagli chiaramente importanti devo dire questo un po' un po' mi pesa insomma qualche rimorso di coscienza ce l'ho però insomma fa parte del ruolo lo sapevamo insomma tutto sommato si va a fare una cosa insomma nell'interesse pubblico una cosa è un bel lavoro insomma anche da raccontare ai figli insomma quindi credo che abbiano compreso insomma l'importanza del lavoro del papà insomma e mi capiscono almeno lo spero pensiamo di sì dai se non altro anche quando saranno più grandi capiranno ovviamente di queste sue inevitabili rinunce per certi versi perché si sta impegnando in Parlamento e in particolare commissioni che tipo di attività sta portando avanti se può anticiparci qualcosa o comunque fare il punto su quello che sta facendo in questi primi mesi dall'insediamento del nuovo governo beh sì allora oltre chiaramente al ruolo di parlamentare il Parlamento organizzato in commissioni come ben sapete faccio parte dell'ottava commissione quella che gestisce il territorio i lavori pubblici e l'ambiente è una commissione molto importante insomma già solo la denominazione della commissione lo lascia intendere e passano lì davvero molti provvedimenti che poi dopo vanno in aula per essere discussi e votati molto importanti incidono pesantemente sulla vita di tutti i giorni insomma dei cittadini per esempio penso a un provvedimento di cui sono stato relatore poco fa che riguardava la sicurezza delle acque pubbliche e abbiamo in pratica dato seguito a delle direttive europee per la verità abbiamo anche come dire innalzate di livello abbiamo fatto più di quello che ci hanno chiesto per garantire una maggior sicurezza sanitaria delle acque pubbliche dell'acqua del rubinetto che tutti noi beviamo ogni giorno utilizziamo per i nostri usi domestici quindi insomma non entro nel tecnico perché era estremamente complessa però insomma ecco questo per citarne uno di quei provvedimenti che vengono elaborati dalle commissioni che veramente vanno a servizio della nell'interesse insomma generale della popolazione è certo senta cosa ha provato ieri quando la terra ha tremato di nuovo è vero che insomma nelle marche l'abbiamo percepita ma l'epicentro era più dislocato sull'Umbria e in particolare ad Umbertide quella delle 16 e 5 poi seguita la sera da quella delle 20 e qualche minuto fino a quella delle 20 e 15 ulteriormente ce ne sono state tre tutte con una magnitudo tra 4 e 5 fino a 4 e 7 e per noi marchigiani che con il terremoto purtroppo abbiamo e mi viene da dire purtroppo imparato a conviverci è sempre una brutta sensazione beh certo sono notizie che evocano anche quando non riguardano direttamente il nostro territorio evocano dei ricordi veramente estremamente spiacevoli io devo dire personalmente non l'ho sentita come spesso mi succede c'è mia moglie che mi critica che dice che io dormirei nel letto fino a che non mi casca un cornicione sullo stomaco però insomma la vivo abbastanza con serenità perché purtroppo dobbiamo prendere atto che insomma noi abbiamo un territorio estremamente vulnerabile dal punto di vista sismico estremamente soggetto a terremoti e questo dobbiamo convivere con questo rischio ma anche al tempo stesso attrezzarci progressivamente in maniera sempre più efficiente per gestire l'emergenza che va sia dalla prevenzione nella costruzione degli edifici in maniera corretta insomma idonea resistere a queste scosse sismiche sia anche nell'attuare tutta una serie di meccanismi che devono aiutare la popolazione nel momento in cui ecco si verifica la scossa sismica certo prevenzione importante ne parlano spesso per quanto riguarda la nostra regione che è estremamente bella ma al contempo anche estremamente fragile da un punto di vista proprio morfologico diciamo così quali altri dossier e chiedo l'onorevole prima di salutarlo e di andare in pubblicità sono pronti per il governo per quanto riguarda le marche o comunque quali state lavorando per la nostra regione penso ad esempio alle infrastrutture che è un tema si sta lavorando molto anche nelle commissioni preposte anche se non la sua direttamente ma inevitabilmente le marche come diceva prima hanno bisogno di una riconoscibilità e tutti si stanno accorgendo che razza di regione in chiave positiva siamo finalmente è così cioè che dossier sono pronti certo allora guardi senza entrare troppo nel tecnico perché poi quando si tratta di progetti che sono in corso di elaborazione si rischia di dire delle cose che poi dopo per una serie di motivi non vengono correttamente adempiute o meglio prendono una forma leggermente diversa da quella che si annunciava e poi si rischia di fare brutte figure quindi per serietà non entro nello specifico però ecco posso dire che le marche come poi abbiamo sempre detto sono hanno un grande bisogno di un adeguamento in termini di infrastrutture soprattutto viarie e un rilancio anche del turismo che anche lì comporta una serie di interventi normativi sia da parte della regione che da parte del governo centrale per insomma rendere la nostra la nostra regione il nostro territorio all'altezza adeguato alle aspettative giuste legittime che abbiamo ma anche alle grandissime capacità e possibilità che abbiamo in termini di turismo di sviluppo all'estero e nell'ambito del nostro territorio nazionale delle marche che sono lo dico con un certo campanilismo però anche sforzandomi di essere obiettivo sono una ragione eccezionale insomma bellissima con delle grandi peculiarità che meritano di essere valorizzate e quindi ecco speriamo di riuscire a portare avanti degli obiettivi sia in termini di breve che di medio lungo periodo per adeguare la nostra regione alle aspettative e alle necessità che le sono collegate che le sono connesse grazie onorevole Stefano benvenuti costoli deputato anconetano marchigiano e coordinatore di fratelli d'Italia per la provincia di Ancona grazie per il suo tempo che ci ha dedicato stamattina e anche per queste notizie che di fatto ci ha fornito perché abbiamo commentato e siamo voluti entrare insieme sull'argomento del provvedimento di quei fondi e ristori stanziati anche per l'agricoltura dopo l'alluvione drammatica per tutti noi del 15 settembre ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità state con noi arrivo altri ospiti benvenuti benvenuti nella zona dedicata alle cucine e alla sala pranzo del nostro showroom oggi vi presentiamo una cucina lube modello luna con lanta in legno e top in grass a completare la stanza abbiamo il tavolo euro sedia allungabile fino a 3 metri e 30 che può ospitare fino a 14 persone vi aspettiamo nel nostro showroom di via viave 33a per disegnare e progettare al meglio i vostri ambienti Workgate Italia da oltre 15 anni coordina l'attività di professionisti per offrire servizi specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per garantire il benessere produttivo privacy perché la tutela dei dati è sempre più a rischio formazione professionale se vuoi essere al passo con i tempi Workgate Italia ti accompagna in sicurezza verso l'innovazione e la crescita Workgate Italia per te ciao a tutti siamo Sara Elena e Irene vi aspettiamo su ITV Marche per una nuova trasmissione che parla di HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili non perdetevi che fine ha fatto l'HIV concerti e spettacoli su ITV Plus canale 17 il venerdì alle ore 23 il sabato alle ore 14 e il mercoledì alle ore 20 e 30 su ITV Marche canale 12 il sabato alle ore 9 e 30. Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. AirSaf, anche a M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com La musica più bella delle orchestre italiane di musica melodica e liscio suonano su ETV, perché da noi la musica è nel cuore. Ben ritrovati a Buongiorno ETV, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo parlato poco fa con l'onorevole Stefano Benvenuti Gostoli di questo provvedimento del governo che è ovviamente andato a stanziare ulteriori risorse nell'ambito del fondo di solidarietà nazionale dedicate all'agricoltura e a quelle imprese purtroppo colpite dall'alluvione del 15 settembre, dalla tragedia dell'alluvione del 15 settembre. Alcuni messaggi prima di presentare e di introdurre anche i nostri ospiti. Tanti auguri per i tuoi cento anni, mamma Florinda di Casette Dete. Auguri davvero alla signora. Ci associamo anche noi e poi se volete continuare a scriverci e porre, perché no, domande agli ospiti potete farlo al 3493918169. Prima di presentarli facciamo così, anzi, che è la soluzione migliore. Vi mostro questo servizio che spiega qualcosa in più su di loro e poi li presentiamo e iniziamo ad entrare in argomenti tanto importanti quanto sensibili, un po' per tutti. Sentiamo. Ciao a tutti, siamo Sara, Elena e Irene. Vi aspettiamo su ETV Marche per una nuova trasmissione che parla di HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Non perdetevi, che fine ha fatto l'HIV! Che fine ha fatto l'HIV? Lo chiediamo a Luca Saracini, direttore generale delle opere caritative francescane e ovviamente responsabile della casa alloggio Il Focolare, ma anche di Ancona Checkpoint. Buongiorno e benvenuto a Registro di ETV. Buongiorno, buongiorno a tutti. E lo chiediamo anche a uno di quei volti del programma che citavamo qualche istante fa, la giovane Sara che saluto, che insieme a Luca. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Luca, partirei da te con una domanda. Questo progetto lo vogliamo spiegare bene nei dettagli perché penso sia importante fare prevenzione e voi lo state portando in televisione e non è mai una cosa scontata. Sì, le opere caritative francescane, come sai, si sta occupando da più di vent'anni per l'accoglienza di persone HIV e di esse all'interno della regione Marche, con una casa alloggio, Il Focolare o il progetto appartamenti. Chiaramente c'è da far tanto anche sull'aspetto della prevenzione perché 1700 e passa casi all'anno di nuove infezioni di HIV ancora sono tante e se vogliamo arrivare all'obiettivo di zero contagi la strada è ancora lunga. Sotto Covid abbiamo pensato a un progetto, grazie a dei fondi di Gilead, che ha messo a disposizione la possibilità di creare un checkpoint. L'anno scorso, proprio marzo del 2022, abbiamo aperto il primo checkpoint nelle Marche dove facciamo gratuitamente test per HIV, HCV e sifilide in maniera gratuita e anonima a tutte quelle persone. Attualmente abbiamo, in questo primo anno, abbiamo testato quasi 600 persone che sono venute al checkpoint di Ancona, che è in via delle Grazie. Vengono persone da tutta la regione? Sì, da nord a sud della regione, in maniera gratuita, ripeto, anonima, vengono tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 20.30. Abbiamo questo luogo, sportello di counseling e pre-post-test e con i nostri volontari dell'associazione stiamo portando avanti questo importante servizio. Perché poi le persone fanno fatica a entrare in ospedale, poi questi ultimi anni con il covid si sono testati pochi. Ecco, siamo andati noi sul territorio con questa accessibilità, insomma, diciamo più veloci, in orari anche più consoni, perché il pomeriggio le persone, chiaramente dopo il lavoro, possono venirsi tranquillamente, poi in forma comunque gratuita, venirsi a testare. Ecco, nel frattempo io cerco di mandare proprio la pagina della vostra associazione, anzi lo faccio subito mentre parliamo insieme. Dove possono trovarvi? Il mercoledì lo abbiamo detto? Sì, ci trovano chiaramente su tutte le pagine Instagram di Ancona Checkpoint, Facebook e lì possono comunque prenotare, rispetto in forma sempre anonima, i test, il loro quarto d'ora per fare comunque questi test rapidi di HIV, HCV e Sifilide. All'interno di questo progetto abbiamo chiesto a Team Formo di Ancona, questa associazione di giovani che anche loro hanno aperto sotto il periodo del covid, una collaborazione per portare avanti una trasmissione di otto puntate, che va in onda ovviamente sul vostro canale di ITV e Marche, una trasmissione per i giovani e fatta da giovani, ma non solo, cioè l'informazione noi passiamo tramite i giovani, ma vogliamo che l'informazione e la prevenzione su questa tematica di malattie sessualmente trasmissibili passi più possibile. Sono otto puntate, otto pillole diciamo di informazione e ripeto e prevenzione. Ecco, e allora io vengo da Sara mentre sto mandando proprio delle immagini del vostro backstage, come si dice anche in gergo tecnico. Com'è mettersi alla prova per parlare di argomenti così importanti e farlo, perché voi di fatto lo producete proprio, siete attori e poi lavorate anche proprio per la produzione. Sì, sì, realizziamo tutto noi, sì, ci mettiamo alla prova, come sempre l'informo ci fa mettere anche attraverso tutte le nostre dirette, i nostri tanti progetti, e chiaramente questo è un passo avanti, è un salto di livello, perché comunque è una trasmissione che va in TV, interamente realizzata da noi, e quindi ci portiamo dietro telecamere, microfoni, tutte le puntate, le otto puntate sono strutturate in un certo modo, quindi proprio perché si tratta di sensibilizzare soprattutto i giovani, chiamiamo un ragazzo o una ragazza che faccia da ospite, a cui facciamo delle domande, ogni puntata è dedicata ad un tema. E chiaramente c'è tanta organizzazione dietro, appunto perché siamo soltanto ragazzi, è un po' complicato, però si tratta di mettersi in gioco e da sempre diciamo un'esperienza nuova. Eh sì, un'esperienza nuova e che sta funzionando anche benissimo, questi gli orari, le messe in onda sulla nostra emittente della prima puntata, del primo appuntamento che è già andato in onda dal 4 marzo, quindi la scorsa settimana, sia sul canale 12 di TV Marche che sul 17 TV Plus. E adesso, Sara, per i prossimi appuntamenti, che dobbiamo attenderci? Ogni puntata, come dicevo, affronteremo un tema diverso, abbiamo affrontato il tema su che cos'è la TV, ma affronteremo anche come si trasmette, diciamo come vivono poi le persone, come si cura e se effettivamente le persone affette da HIV e AIDS possono vivere una vita normale come tutti gli altri. I temi sono tanti e diciamo snocciolano quello che è il tema generale dell'HIV e dell'AIDS, quindi ogni settimana andranno in onda le puntate e con le rispettive repliche e speriamo vadano tutte bene, che piaccia. Eh sì, assolutamente. Poi noi siamo pronti a farvi, a dirvi feedback di queste puntate, ma siamo sicuri che questo format sia vincente perché penso che poi, e torno dal Presidente, quando sono i ragazzi a parlare direttamente con i pari, spesso e volentieri, c'è un messaggio di fondo che è più importante e forse c'è anche una capacità di parlare a coetanei con maggiore incisività, pensi che sia così? Sì, sicuramente, noi abbiamo pensato a loro perché comunque giovani, visi freschi e sicuramente possono parlare a queste generazioni anche perché l'incidenza diciamo oggi in Italia dell'età, diciamo media, delle persone che si infettano comunque è abbastanza bassa. Perciò abbiamo pensato soprattutto da partire dai giovani per, diciamo, lanciare messaggi di prevenzione che poi ovviamente arrivano anche agli adulti, questo sicuramente. Ecco, dicevamo che voi giovani di Team Formo Torno da Sara aiutate un po' tutti a riflettere sull'HIV ma anche su altre malattie sessualmente trasmissibili. Perché pensate sia importante anche fare prevenzione da questo punto di vista? E perché vi siete, e vi state spendendo per questa nobile causa, quella di informare? Il tema dell'informazione è un tema che sta a Carat Informo fin dalla sua nascita. Noi nasciamo, siamo diventati, diciamo, da un annetto più o meno un'effettiva associazione di volontariato, una testata giornalistica. Quindi il tema dell'informazione in generale è il nostro tema principale, quello di divulgare notizie, diciamo, sconosciute che riguardano tutto il resto del mondo. Il tema dell'HIV, dell'AIDS e della prevenzione è un tema, diciamo, di cui non ci siamo mai occupati personalmente, però le opere caritative francescane ci hanno dato questa occasione e quindi noi ovviamente l'abbiamo colta e attraverso la registrazione delle puntate una delle rubriche principali è proprio quella delle domande alle persone. Quindi noi abbiamo speso un pomeriggio, una giornata per Ancona a fare domande sull'HIV e l'AIDS alle persone che passeggiavano e abbiamo visto che effettivamente c'è tanta disinformazione, quindi specialmente essendo un programma rivolto ai giovani è importante sensibilizzare su questo tema. Ecco, sulla disinformazione, proviamo a fiare chiarezza e rivolgo un po' la domanda da entrambi perché, insomma, perché una persona può stare attenta, deve stare attenta anche se ne incontra un'altra che magari ha contratto la malattia, perché talvolta ci sono degli stereotipi che vengono tacciate queste persone come se fossero, vabbè, trovate lì voi gli aggettivi più corretti, però fare informazione, fare un'informazione corretta sia sulla prevenzione sia anche su come affrontare poi il virus una volta contratto. Sicuramente in Italia ancora c'è uno stigma forte su questa infezione, questo dobbiamo dircelo in maniera franca. Queste azioni, diciamo, delle comunità alla lotta all'AIDS, io questo checkpoint voglio ricordare è un lavoro di squadra fatto da Capitanati, dal Comune di Ancona che ci ha supportato in questa rete da anni, insieme con Città Sani, insieme in forma bus, insieme con la Caritas di Ocesana e d'Ancona, a Archie Gay della comunità di Ancona, all'AIDS, Ospedale Uniti, Free Woman, insomma tutte associazioni che comunque negli anni abbiamo sempre portato avanti questa tematica della prevenzione. Il checkpoint è sicuramente stata un'azione, diciamo, sul territorio in maniera forte, però dobbiamo ancora fare tanto dal punto di vista, ecco, dello stigma, perché ancora è vista comunque come un'infezione che un qualcuno se l'è cercata, ma non è così, questo dobbiamo diciamo dirlo in maniera forte. Ho fatto questa domanda apposta, cioè diciamolo in maniera forte anche perché supportati evidentemente voi da medici, professionisti che possono confermare, è così, cioè qui stiamo vedendo proprio delle immagini di Luca insieme al vescovo, al taglio del nastro. Sì, anche questo secondo me è molto significativo, no? Anche mondi che apparentemente sono lontani, no? Adesso possiamo dirlo, cioè il mondo di Archie Gay insieme con la Caritas, insieme con noi anche opere caritative, ma penso che diciamo l'unione fa la forza, ognuno di noi che ha ovviamente le sue mission, però questa se vogliamo sconfiggerla prima possibile, sicuramente l'HIV, la storia dell'HIV in 40 anni diciamo ha fatto passi da gigante dal punto di vista delle cure, oggi di AIDS non si muore più, questo lo possiamo dire in maniera anche qui forte, però sei preso in tempo. Il dato anche italiano è un dato un po' negativo perché noi arriviamo alla diagnosi, questo anche i nostri colleghi delle malattie infettive ce lo dicono, a livello italiano si arriva tardi alla diagnosi e poi chiaramente il virus fa il suo percorso se si arriva tardi e le terapie non hanno più quell'efficacia. Se invece si arriva presto la persona può avere una qualità della vita uguale a una persona seronegativa e questo è importantissimo, perciò arrivare più possibile, il testarsi, ecco anche la cultura del testarsi oggi in Italia su queste infezioni è ancora bassa, dobbiamo sicuramente aumentarla. Direttore come funziona però poi effettivamente un test che possono venire a fare nel vostro checkpoint? In giro di un quarto d'ora massimo 20 minuti diamo la risposta, sono test rapidi di quarta addirittura generazione perché cerchiamo l'antigene e l'anticorpo sul virus dell'HIV e poi facciamo test di sifilide e epatite C. Con un pungidito sul polpastrello prendiamo una piccola quantità di sangue e da lì con poi i test in pochi minuti, vi ripeto, viene il risultato. Diamo un counseling pre e post test e anche rispetto a delle domande su chiaramente diciamo la sfera chiaramente sessuale della persona, i vari rischi che ha percorso o no e poi diamo il risultato. Nell'eventualità della positività e anche lì abbiamo trovato da marzo dell'anno scorso ad oggi alcune positività sia di HIV sia di sifilide. Per capirci, persone che pensavano di essere assolutamente negativi al test e che lo hanno provato per controllarsi e proprio per quello che noi chiamiamo come prevenzione, in maniera anche casuale fondamentalmente. Sì, e vi posso dare anche un dato, sono persone giovani dai 20 ai 29 anni che abbiamo trovato positivi, perciò ritorniamo ai giovani, è importante testare il più possibile. E poi abbiamo questo filo diretto, questa convenzione con l'ospedale Iroiniti di Ancona, con il reparto di immunologia clinica, l'ambulatorio, capitanati dal dottor Buttini, dove Luca Buttini, che è anche presidente di Alliance Market, dove abbiamo sancito con loro una via preferenziale per poi chiaramente fare anche lì il controtest, diciamo il test di convalida trovato al checkpoint e poi anche metterli in cura. Cioè per capirci, voi siete un primo presidio e poi dopo chiaramente indirizzate la persona verso i canali, diciamo. Abbiamo anche un checkpoint diffuso, nel senso che con il Comune di Ancona in forma busse, in alcuni periodi dell'anno andiamo presso le università di Ancona, presso alcune piazze principali, Piazza del Papio, Piazza Roma siamo stati, dove anche lì in maniera gratuita anonima con il camper e un gazebo facciamo test per le malattie sessualmente trasmissibili. Certo. Torno da Sara invece, parlavamo di prevenzione e dell'importanza di effettuare i test, però poi c'è l'importanza, e voi lo dite anche nelle vostre trasmissioni, l'importanza di mantenere comunque dei comportamenti, non dico virtuosi, però se non altro molto attenti, oculati. Ecco, che tipo di esperienza avete avuto in merito a questo argomento e poi se ne parlerete comunque anche durante le prossime trasmissioni del programma che fino ha fatto l'HIV. Allora, come ci si protegge dall'HIV è uno dei temi delle otto puntate ed è chiaramente un tema importantissimo, centrale, perché l'obiettivo è quello di sensibilizzare, quindi sì, di fare in modo che le persone vedano gli affetti d'HIV e di esse in modo assolutamente normale, che non li stigmatizzino, come abbiamo già detto prima, con delle etichette sbagliate, però l'obiettivo della trasmissione è anche quello di far sì che poi i giovani siano più attenti ovviamente con i loro comportamenti e quindi appunto di prevenire lo sviluppo di questa malattia. Quindi è sicuramente un tema importante che affrontiamo nelle puntate. Beh certo, provo a capire degli spoiler da te, puoi anticiparci qualche altro tema, questo insomma l'abbiamo detto, oltre a quello che è già andato in onda. Ma anche quello appunto di come vivono effettivamente le persone affette d'HIV e di esse. Devo dire che questa è una delle cose che è più cambiata nella mia visione, perché anche frequentando proprio il Focolare, che è uno dei progetti delle opere caritative francescane, abbiamo avuto modo noi di Team Formo di conoscere delle persone che hanno sviluppato questa malattia e anche attraverso i dati diciamo che poi forniamo durante la trasmissione è facile comprendere che sia una vita che può essere assolutamente portata avanti con normalità se ovviamente la malattia è diciamo scovata in tempo e si viene curata nel giusto modo. Normalità che però voi cercate di dire è normalità anche per gli altri, non soltanto per la persona che ci convive, giusto? È così? Esatto. E perché in particolare? Perché provate a dimostrarlo proprio con dei filmati, con dei messaggi che sono piuttosto chiari e anche immediati, di chiara comprensione un po' per tutti? L'emarginazione è una cosa sbagliata a prescindere, chiunque sia l'individuo è marginato e le persone che riscontrano questa malattia sono una di quelle e quindi noi cerchiamo anche di evitare questo. Certo e fate bene, lo fate anche con grande coraggio perché poi esporsi è sempre importante e utile. Parleremo anche di un prossimo progetto che state preparando per la Pasqua, Presidente, ne parliamo tra un attimo. Intanto che potete dirci in merito alle vostre esperienze? Cioè come giudica l'esperienza di questo Ancona Checkpoint? È chiaro, i numeri insomma parlano in maniera inequivocabile perché il vostro ruolo è stato importante da sentinella per certi versi e per poi indirizzare queste persone verso le strutture sanitarie preposte. Però mi pare di capire e di giudicare che anche dalle impressioni degli altri il vostro lavoro venga comunque incensato, valorizzato e ben applaudito da parte della comunità. È così? Sì, sinceramente non pensavamo a questi grandi numeri, questa è la verità. Invece il post-Covid ha fatto sì che le persone hanno voglia di testarsi, infatti la media anche di persone che vengono, l'ultima volta il test l'avevano fatto 3-4 anni fa e il fatto la cosa eccezionale è che le persone si fanno anche 40-50 km all'interno della regione per venire ad Ancona il mercoledì dalle 17.30 alle 20.30 per testarsi. Sicuramente il fatto dell'anonimato è anche a questo un valore aggiunto, però persone da Ascoli, da Fano, da Pesaro, da Civitanova, da Macerata, insomma comunque da tutta la regione. Questo sicuramente ci ha fatto piacere, cerchiamo di portarla avanti, chiaro attualmente le risorse io lo dico sono solo private e non abbiamo purtroppo qui aiuti pubblici e questo è anche un appello che faccio alle istituzioni di aiutarci a darci una mano soprattutto a creare dei progetti che non abbiano un progetto che duri un anno o due anni, ma comunque di prevenzione dobbiamo purtroppo farci conti e programmare una certa prevenzione e farla nel tempo. Come potervi aiutare, come potervi sostenere? Guarda, in questo momento del periodo pasquale, ieri è un mese dalla Pasqua, ci siamo inventati grazie a un'azienda, un negozio di Ancona, Versatili, che tra l'altro sta vicino alla serie di TV Marche, qui alla baraccola di Ancona, un ovo sicuro, dove abbiamo fatto due uova, uno al latte e uno a fondente, sia per i bambini che per gli adulti e questo è un gesto di solidarietà per portare avanti e riuscire a comprare più test possibili e con l'aiuto in questo periodo che le persone possono venire a prendere l'uovo presso la sede del focolare della nostra associazione, ma lo potrete trovare anche se è qui a Sexy Shop di Ancona, sia, non voglio far pubblicità, però ecco, tutte le persone che... E la facciamo invece, perché stiamo pubblicando proprio la vostra pagina Facebook. Anche presso l'Archigay Community Assa d'Ancona e poi lo troverete anche il 31 e l'1 di aprile, 31 marzo e 1 aprile, perché questa seconda iniziativa faremo uno spettacolo insieme con Caritas di Ancona, l'Orto del Sorriso e con il gruppo che ha messo su un bellissimo spettacolo, Una Stella in Fuga, presso il Teatro Sperimentale di Ancona alle 20.30 del 31 e 1 aprile. Questa è una squadra veramente di attori fantastici della parrocchia di Pietralacroce, capitanati anche lì dal parroco, che hanno messo su questo bellissimo spettacolo e sicuramente passeremo due ore di risate in allegria, ma soprattutto anche per sostenere questi progetti che il ricavato andrà anche alla nostra associazione e Ancona Checkpoint. Certo, ho visto che qualche giorno fa, in particolare, li fate spesso, però a momenti di confronto, la scorsa settimana, forse due, avete fatto un corso di formazione gratuito dedicato ad operatori volontari in ambito di HIV, quindi c'è anche la parte della formazione. Sì, perché quest'anno con questo progetto Time to Prevent stiamo mettendo su un gruppo di persone in maniera volontaria che vogliono andare nelle scuole, ma non solo, l'obiettivo è anche entrare nei carceli due di Montacuto e Barcaglione per fare prevenzione e sensibilizzazione su queste malattie sessualmente trasmissibili. Sono obiettivi grandi, però noi ci vogliamo provare e sono sei incontri che li stiamo facendo presso la nostra sede dell'associazione in via Frazione Varano 204, presso il Focolare di Ancona, dove tutti i venerdì sera, questa sera anche, ci sarà il terzo incontro e prepareremo queste persone a fare prevenzione, anche perché è da anni che andiamo nelle scuole di Ancona, ma non solo, anche di tutta la provincia. Sarà voi che tipo di esperienza state facendo invece? Perché se abbiamo parlato bene, benissimo, di Ancona Checkpoint per la sua importanza che sta rivestendo un po' per tutta la città, ma per tutta la regione, mi avrebbe da dire, come ha detto qualche istante fa anche dal direttore, voi invece con questa esperienza televisiva e più in generale, penso sia anche arricchente per voi da un punto di vista professionale e umano. Certo, noi con T'Informo realizziamo mensilmente delle dirette, sempre con l'obiettivo di informare, cerchiamo di invitare degli ospiti che ci parlino di realtà anche molto lontane, abbiamo intervistato medici che vengono dall'Amazzonia, collaboratori di associazioni che operano veramente in tutto il mondo, Turchia, Siria, quindi cerchiamo di allargarci il più possibile e quindi abbiamo esperienze, diciamo, con le telecamere, con le interviste, però ovviamente la trasmissione è un salto di livello, come dicevo. Poi chiaramente noi abbiamo sempre la nostra redazione, quindi settimanalmente ci vediamo una ventina di minuti il venerdì sera per scegliere e selezionare varie notizie che troviamo sul web, notizie sconosciute, questa diciamo è una delle poche regole che però ci imponiamo noi di T'Informo, quindi cercare notizie... Spiegaci bene nei dettagli che mi pare interessante questa cosa. Allora, T'Informo, prendendola alla larga, è nata diciamo 3-4 anni fa da in realtà un gruppo d'opocresimo, normalissimo, della parrocchia Santa Croce di Pietro alla Croce e diciamo durante questi incontri, diciamo guidati da Paolo Petrucci, che è uno dei nostri attuali coordinatori, diciamo ci siamo resi conto che veramente sapevamo poco di quello che succedeva dall'altra parte del mondo e da lì abbiamo detto perché no, abbiamo messo su appunto questa redazione, abbiamo adesso una stanzetta a Pietro alla Croce dove diciamo c'è la nostra poca attrezzatura che però per ora ci basta, cerchiamo notizie, le selezioniamo, poi si scelgono una o due persone che quella settimana si occupano di scrivere l'articolo, di trovare le immagini, ritagliarle, trovare i link che possano essere i più veritieri, oggettivi possibili e poi pubblichiamo l'articolo. La verifica delle fonti, insomma, è sempre essenziale. Quanti siete e che età più o meno tra questi ragazzi? Allora l'età va dai 14 ai 21 anni circa, siamo veramente giovanissimi ed è un'opportunità per noi perché ci carichiamo di responsabilità e diciamo abbiamo sulle spalle un progetto a cui teniamo e che abbiamo noi la necessità di portare avanti perché abbiamo dei coordinatori ma in realtà T'Informo è gestito da noi ragazzi. Siamo penso una quindicina che è comunque molto poco perché le cose da fare sono tante adesso anche con la trasmissione e appunto proprio perché siamo ragazzi abbiamo tante cose da fare tra scuola, molti di noi fanno scout, progetti musicali, teatro e quindi diciamo organizzarsi è sempre un po' difficile però proprio per questo noi cerchiamo sempre persone quindi se c'è qualcuno che vuole entrare, bene accetto. Brava, brava. Complimenti a te e in rappresentanza di questo gruppo di T'Informo. Luca chiudiamo perché tra poco dobbiamo andare in fascia pubblicitaria dicendo e parlando di questo appuntamento che voglio mostrarvi eccolo qua, segnatelo in agenda come dicono loro dalle opere caritative francescane Una stella in fuga questo spettacolo al teatro sperimentale che cosa dobbiamo attenderci Presidente? Speriamo di fare sold out come l'abbiamo fatto nel lontano 2019 speriamo anche quest'anno diciamo di replicare perciò ecco l'invito è di andare a prendere i biglietti presso l'Orto del Sorriso che sta via del Castellano ad Ancona che è un punto che è possibile prendere i biglietti o diciamo consultare le nostre pagine per tutte le info comunque venerdì 31 marzo alle ore 20.30 il primo aprile la replica sempre al teatro sperimentale 20.30 ecco una stella in fuga ecco qua e noi l'abbiamo mostrata grazie per essere stati con noi stamattina per avervi e per averci illustrato i vostri progetti straordinari in particolare quello dell'Ancona Checkpoint poi abbiamo parlato anche di questa trasmissione che fine ha fatto l'HIV che verrà riproposta su ETV Marche ringrazio e saluto Luca Saracini direttore generale Associazione Opere Caritative Francescane dell'Ancona Checkpoint grazie per essere stati con noi grazie a voi buon proseguimento di giornata e Sara che è una delle protagoniste che poi ritroveremo su che fine ha fatto l'HIV e che già abbiamo imparato a conoscere oggi abbiamo conosciuto meglio anche grazie alla sua realtà condivisa con altri giovani ti informo grazie Sara grazie buon proseguimento di giornata a tutti voi dobbiamo andare in fascia pubblicitaria poi dopo il break Alessandro Tizzani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buongiorno da ETV Marche ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come sempre ci potete seguire in televisione sul canale 12 e ovviamente anche sul nostro sito e sulla nostra app di ETV Marche parliamo di economia parliamo di sanità messiamo sulla cronaca la politica ora come vedete alle nostre spalle è appena entrata in porto la Geobare grazie a tutti ben ritrovati a Buongiorno ETV e ben ritrovato ad Alessandro Tizzani buongiorno maestro ti ho preso in castagna stavi chattando col telefono stavo cercando di capire gli ultimi acquisti di chi? nostri del calcio mercato cioè che acquisti abbiamo fatto hai seguito questa parte interessantissima con gli amici? certo temi importanti da vent'anni il nostro ex responsabile scriveva appunto per il giornale il focolare e quindi mi fa sempre piacere poi sosteniamo l'associazione il focolare da tempo quindi da una ventina d'anni e hanno sempre queste bellissime iniziative e soprattutto abbiamo fatto anche in passato tantissime trasmissioni sull'HIV la novità di quest'anno è che la trasmissione la fanno i ragazzi che poi bravi sono molto bravi sono le persone che poi alla fine i ragazzi mentre per la mia generazione c'erano degli spot dove tu non ti ricordi sull'HIV e quindi molto molto invasivi poi non se ne è parlato più per tanto tempo perché si ha questa percezione che ormai non è un problema e invece si sta diffondendo anche perché non c'è più quell'informazione che giustamente fanno adesso questi ragazzi perché poi le domande avevamo scoperto anche noi andando in giro facendo semplici domande cos'è l'HIV si era un po' perso questa cosa e quindi mi fa molto piacere soprattutto e poi nuove giornalistiche che crescono ed è questa anche la cosa bella perché tutti noi finalmente fino a giovani giovani ce ne sono sempre meno e io posso essere un esempio in questo nel senso che ne vedo molto pochi di miei io ti dico che da piccolo sono andato a Radio Center Music che avevo 12-13 anni e alla fine Radio Center Music ha fatto parte del gruppo di TV quindi vedi com'è la passione che uno ha parte da piccolo quindi Alessandro Tiziani sta dicendo un domani a Sara e ai ragazzi di Team Formo che ci potrebbe dai però potrebbe esserci adesso rimanendo seri un'opportunità perché mi pare di capire davvero che sono molto ben organizzati e soprattutto hanno passione ce ne hanno tanta di passione di voglia di imparare senti maestro ma da dove vogliamo partire partiamo partiamo dall'Europa League no dall'Europa League però io in realtà voglio partire da una considerazione io ricordo martedì mattina hai voluto celebrare in diretta sui TV Marche il funerale del calcio italiano in Europa nessuna nessuna delle squadre italiane ha perso in Europa e quindi come no già hai detto un errore la Lazio la Lazio ha perso però conference league però voglio nessuna hai fatto un errore tra l'altro c'era anche un meme con Sarri che gesticola fantastico il bello è che era la squadra che avevo detto che passava malissimo hai preso un gracchio gigantesco la mia sensazione è andata bene mi ha stupito anche la Roma quindi quattro vittorie anzi tre vittorie un pareggio una sconfitta ieri hai detto Real Sociedad vincente però è stato subito gol della Roma invece benissimo meglio così perché vuol dire l'Italia che va fuori poi c'è il ritorno la Juventus ieri poteva fare 4-5 gol poi alla fine ha fatto la Juventus nel senso che è stato annullato il gol al VAR al primo tiro del Friburgo e se no era 1-1 c'era Grifo ma ieri non è che mi è piaciuto tanto non si può dire il termine non mi ha fatto are ok chiaro chiaro per fortuna purtroppo adesso bisogna capire l'infortunio di chiesa possibile che non sia l'altro ginocchio questo perlomeno dovrebbe aver detto Allegri che non pare sia nulla di grave però non è lo stesso ginocchio operato vediamo adesso aveva fatto anche qualche lacrima c'è avuto la ferita è ancora aperta sia Maria è rimasto in campo c'era i crampi ha fatto i gol di testa chi è sia Maria quindi l'abbiamo pagato per i piedi fa i gol di testa invece devo dire Vlaucci molto male la Fiorentina si è mangiata tantissimi gol adesso deve andare a giocare in Turchia e non è facile ha vinto 1-0 con il mio giocatore che è Barak e detto questo quindi molto positivo per gli italiani c'è un ritorno anche per la Juve non sarà facile perché giocare in Germania è tutto un altro film e poi c'è stata una cosa un po' molto strana di un tifoso del Real Madrid del Real Società che ha perso una falange ha perso una falange sì sì non c'è nulla di divertente povero ha perso una falange come? si è arrampicato da qualche parte in un cornicione non so dove è caduto e praticamente l'anello del matrimonio che c'era anche la moglie presente è partito il dito e la moglie era presa e andata a finire al Policlinico storia che stavo leggendo di curiosità come queste situazioni questi tifosi scalmanati che vengono in Italia perché sono stati tanti anche i tedeschi visto che quanti erano eh sì quindi all'estero le squadre le seguono moltissimo e poi quando vengono qua in Italia un po' di confusione la creano no? un po' così però detto questo benissimo per gli italiani si riparte con il campionato perché questa sera si gioca con l'Inter che gioca con lo Spezia i buoni Zaghi si gioca tanto perché deve confermare poi la prossima martedì c'è il Porto e quindi vediamo un po' come va per quanto riguarda la Juventus siamo col fiato sospeso poi dopo ieri c'è stata la notizia di Pogba guarda 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 che mi leggi nel pensiero guarda cosa stavo leggendo proprio adesso ma motivi disciplinari pare per cui sembra che si è arrivato in ritardo esatto si è presentato in ritardo prima della partenza insomma per per lo stadio e Allegri l'ha tenuto fuori scelta giusta perché comunque bisogna essere certo stesso trattamento per tutti però di fatto e gli infortuni ma è un anno che non gioca non gioca mai non gioca mai è venuto tra noi però staremo a vedere ma è a rischio secondo te cioè come dice la gazzetta lo tagliano no no adesso si rimette nei ranghi e anche perché poi l'abbiamo aspettato un anno il prossimo anno potrebbe essere molto utile e quindi ha tutto da dimostrare adesso devi dare l'esempio perché è stato preso perché doveva dare l'esempio ai giovani e invece è lui che fa confusione l'altro è Keane che ha dato il calcio è stato provocato sembrava la scena di Totti con Balotelli identica nello stesso stadio solo che dal lato opposto del campo non so se ricordi sì sì però quindi era Totti che ha dato il calcio a Balotelli esatto però c'era una munizione grande come una casa meritava il doppio giallo quindi l'espulsione doveva essere reciproca quindi chi non deve cadere in queste provocazioni Mancini non è nuovo a queste situazioni detto questo riparte il campionato eh sì dicevamo nel campionato insomma stasera l'Inter impegnata alla spezia in una partita che come finirà no io dico fammi ricordare perché adesso mi è arrivato un messaggio Fiano era allo stadio a vedere la partita quindi quindi tu hai una redazione di Gobbi giustamente però io adesso ti volevo far sbilanciare sull'Inter volevo che facessi un pronostio vince è facile è facile anche perché mi è un interista quindi posso dire vince tranquillo passeggia passeggia ecco volevo proprio parole di questo tipo passeggia sullo spezia e gli fa uno spezzatino uno spezzatino si Andrea Andrea ieri sera si allo stadio allo stadio quindi si è visto la partita si è visto la partita con 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 grandi interesse ma non insomma la Juve ha giocato bene ha dominato a tratti però non ha poteva fare il gol che dava sicurezza invece purtroppo è rimasto 1-0 addirittura con il brivido del gol annullato dal VAR su quel tocco di mano per il resto poi i problemi anche addirittura nella parte finale giocavamo in 10 perché aveva finito gli slot perché sai come funzionano i cambi vanno a slot quindi tu hai 5 cambi ma non è che proprio 5 cambi uno per ogni slot ci sono uno due tre solo quello del primo tempo non viene considerato cioè se tu fai la sostituzione a fine primo tempo non viene considerato altrimenti hai 3 blocchi cioè se la fai a fine primo tempo ne hai 4 no ne hai 5 totali esatto tu non puoi fare 5 4 slot dicevo con 5 cambi totali ma hai 3 slot praticamente esatto quindi tu devi fare 5 cambi nei 3 slot tolto quello del primo tempo 1-2 o 1-2-2 1-3 1-4 la Juventus ha fatto il cambio all'inizio del primo tempo con Alexander che si è fatto male è entrato Bonucci e quindi nel secondo tempo doveva fare entrare due persone io avrei tolto zia Maria perché comunque si vedeva che avrei messo Khin molto prima quindi avrei fatto un doppio cambio Khin Chiesa immediatamente e poi dopo Chiesa si è fatto male anche perché sono piccoli dettagli però anche un cambio nel momento cambia una partita in generale anche le situazioni quindi la Juventus aveva bisogno di profondità Blau ce l'ho visto male perché comunque ha pascolato il problema è che la Juventus non ha più punte davanti c'è rimasto solo praticamente Khin ma è squalificato Miric è infortunato e quindi c'è solo Vlaovic e le alternative sono De Maria secondo te possiamo parlare di Vlaovic come un pacco o pensi che il ragazzo abbia talento cosa sta succedendo adesso è chiaro i problemi della pubalgia sono un inferno penso per un calciatore però però se vinciamo gioca male quando poi gioca bene e che la Juventus gioca male quindi nel calcio conta alla fine il numero del risultato i dati statistici alla fine dell'anno vediamo quanti gol ha fatto e lì viene valutato il giocatore se poi ha fatto tanti gol giocando male figuriamoci quando gioca bene stasera c'è anche la serie B in campo ci sarà il nostro Ascol impegnato a Cagliari contro il Cagliari di Claudio Ranieri chi è quello che fa perdere l'amore quello è Massimo non so se poi Claudio Ranieri canta qualcosa canta mi ricordo dopo quando ha vinto con l'Eister ancora canta ancora canta ancora canta e quindi anche la serie B in campo quanti anni ha Ranieri? 75? non ricordo l'età esatta lo cerchiamo vediamo un po' l'età Ranieri vediamo subito lo cerchi te così live l'età di Ranieri vediamo adesso aprirà Massimo Ranieri come minimo assicurato intanto ecco qua la schermata Lascoli mentre Alessandro va alla ricerca dell'età di Claudio Ranieri questa partita importante per i bianconeri visto che stiamo parlando di sport 71 71 71 71 e Ranieri sai cosa ha detto? Allegri quanti anni ha? non lo so non mi fare le domande sull'età per mettermi in difficoltà ma è scortese volevo dire questo Sarri 64 vabbè adesso stai guardando l'età di tutti non posso più parlare adesso ti silenzio faccio come si fa in quelle trasmissioni dove arriva il conduttore che silenzia l'ospite esatto volevo dire che per Lascoli è una partita importante questa sera e Claudio Ranieri allenatore grandissimo spesso ha detto mi piace il picchio che ha cambiato mentalità con l'arrivo del nuovo allenatore Breda poi chiaramente però Lascoli questa è una partita è una partita di una volta il Cagliari sta lì siamo nella zona playoff mi sembra 639 e Lascoli sta recuperando perché comunque anche Lascoli è sempre fatto bene comunque in serie B invece il Sud Tirol tu non lo sai ma noi siamo sponsor del Sud Tirol del Sud Tirol che va fortissimo che va fortissimo che è stata promossa dalla serie C alla serie B noi abbiamo i diritti del Sud Tirol perché abbiamo la televisione a Bolzano ok quindi abbiamo fatto un incontro è un bellissimo stadio quindi stanno investendo e quindi poi c'è il Bari programmazioni idee di Laurentiis che se va sul Bari ha detto che lo vende lo vende esatto poi c'è il Genova che è ripartito e l'allenatore del Genova faceva così esatto è un attaccato lo ricordi come esultava sì sì me lo ricordo soprattutto sul passaggio a Del Piero con la partita fondamentale esatto perché so Juventino quando c'era Del Piero io me lo ricordo anche con il Milan alcuni gol importanti la serie B è una bellissima serie B anzi ci sono squadre che per me sono più forti della serie A detto tra noi e poi c'è Inzaghi che è il fratello che prende sempre le squadre e fa partire molto bene adesso un attimo è una fase mi sembra la regina che era partita bomba e si è un attimo fermata invece è il frosinone mi sembra non mi ricordo nella classifica sempre il frosinone sempre lì poi dopo sul finale perché la serie B è così è il ritorno che si fa la differenza detto questo andiamo a vedere un po' cosa devo aspettare andiamo a vedere le formazioni si gioca oggi venerdì domani sabato e domenica la trasmissione è solo la rassegna stampa poi lunedì ritorniamo salutiamo a Maurizio che fa la ballerina la ballerina ti è piaciuto vestito da ballerina? è particolare particolare è piaciuto è piaciuto un po' perché insomma con quelle calze però le persone stavano dire perché avevano le calze non erano le calze si è operato però le persone lo chiedevano quindi dai tu per il sangue siccome non ti puoi muovere quindi sono però detto questo faceva molto ridere quindi l'ha presa bene quindi con lo scherzo dai sì sì col sorriso da giocatore a ballerina un attimo e confermo quindi speriamo di riavere Maurizio il più presto possibile alla mattina poi dopo vediamo intanto le formazioni vuoi far tu la domanda? io ti faccio la domanda vuoi che te l'anticipo? dai te la faccio vabbè partiamo chiaramente da Spezia Inter stasera vittoria dell'Inter Brozovic che ritorna Lukaku quindi Lukaku che sta recuperando e mettiamo la vittoria dell'Empoli sì buonanotte dell'Inter dell'Empoli nel frattempo che l'Inter è un'Empoli quindi una vittoria per Inzaghi molto semplice perché il relatore dello Spezia si chiama Leonardo semplici grazie per avercelo spiegato non lo sapevamo dall'altra parte c'è Nzola ma non vedo Shomurodov quindi sciabolata morbida Shomurodov ecco qua poi abbiamo Empoli e quindi siamo a domani 4 a 0 dell'Inter quindi 4 a 0 dell'Inter stasera spezzatino spezzatino alla spezia alla spezia Empoli Udinese mettiamo la vittoria dell'Empoli quindi un Empoli con Ciccio Caputo e un giocatore interessantissimo Satriano c'era Rocky Balboa che chiamava Adriana e invece l'allenatore dell'Empoli chiama Satriano così perché è aperto e quindi esatto esatto con questo verso culturale pensa avere un giocatore che ha quel nome lì che tu ti inganchi Satriano sulla fascia di tutte le cose che tu puoi pensare hai pensato quella come chiamare Satriano in caso di necessità sulle fasce che è la partita più importante per me Napoli-Atalanta perché l'Atalanta deve il Napoli viene dalla sconfitta quindi poi deve rigiocare la Champions si stai completando il programma di sabato giusto? sì sì Napoli-Atalanta partitona Zappa Costa non c'è quindi c'è Osimè Napolitano Anguissà Zili è il presidente dell'Ucraina poi Cavarschelia lì davanti Di Lorenzo Brahami questo cerca l'acqua poi c'è Kim Rossi-Stewart in difesa in difesa abbiamo questo ragazzo c'è il doppio nome Mattias Oliveira quindi questo è forte è un giocatore che sulla fascia è uno ma sembra due e poi c'è il nostro le merende in porta Beret dall'altra parte c'è va forte quando fa le torte il portiere Musso fa sempre il musso di ogni tipo Maele Toloi il topolino Jim City che tu non sai ma è un quarto di animato di altri tempi poi c'abbiamo De Mirà della Juventus che quindi è forte ma è dietro l'angolo il calcio di rigore De Mirà che è una cosa tipica di questo giocatore però diciamo così poi c'è il nuovo attaccante della Juve dicono Euland è molto basso Euland non è meno Oland perché sennò fai confusare l'attaccante della Juve e la gente sviene Allora la Juve voleva l'Oland e hai preso Oland è uguale si è sbagliato No ma non è vero tra l'altro è bravo quello dell'Atalanta è giovane Poi c'è Lucman quello è un ragazzo che urla Lucman e poi c'è Boga è bello però un bel nome come Boga detto questo vittore Anche Boga perché un giocatore è forte se un allenatore lo può chiamare in un modo strano tipo Satriano può fare di tutto può fare come Crisantemi è un giocatore che fa tutto perché una parola Satriano può essere di tutto è un concetto chiarissimo può essere uno che ti stupisce o uno che ti fa una cosa così molto sbagliata quindi fai Satriano e quindi adesso me lo prendo a fantacalcio quindi oggi Bologna Lazio Allora non c'è il mio bomber Nautovic lo mettono in panchina c'è Zirk che chi che è un attaccante interessante te pensi un attacco Soriano Satriano dall'altra parte c'è l'annatore che a 80 anni ritorna a giocare Ferguson che sei ritirato da 10 nel frattempo da giocatore da 50 da 70 poi c'è un giocatore che a poker va fortissimo cambiasso era il giocatore dell'Inter anche lì poi dopo c'è il famoso giocatore che anche lui insieme a Musso la fanno la padrone la sacca posh sai cos'è la sacca posh e posh viene utilizzato per guarnire se aveva una birra famosissimo Bosch detto questo Lazio dall'altra parte ha avuto la sconfitta di Conference League meritava la vittoria qualcuno ieri diceva coppetta proprio perché io ti dicevo che tu hai detto tutte le italiane perderanno in Europa ho detto la sensazione ma come ti sei presentato vestito all'ulto cioè santo cielo voglio dire veramente la verità è che ho fitto le camicie era un colpo di teatro per trovare la scusa qui ho fitto le camicie e quindi mi è rimasta la camicia nera e non l'avevo mai messa adesso mi hai metto la camicia nera così ce ne lebreremo la fine del calcio italiano bisogna essere bravi a sveicolare a arrivare per le date tecniche e allora ci siamo inventati sta cavolata come al solito questo è il programma di domenica intanto andiamo ci piace scherzare ma certo in questa mezz'ora cerchiamo di far ridere le persone perché tanto le notizie brutte le date sempre voi morti, feriti, terremoti e la gente è un po' stanca faremmo faremmo i giornalisti di mestiere esatto quindi giornalisti danno solo brutte notizie non le danno mai quindi in questa mezz'ora vi piace anche scherzare e giocare tra l'altro poi oggi hai fatto una promessa fuori onda e più tardi il famoso cane di luci perché c'è pronto Diego Mell regia che saluto allora la domanda vediamo anche gli ascoltatori la domanda la poniamo adesso ecco la poniamo la leggenda conoscete la leggenda del cane di luzzi io mi rivolgo questa è una leggenda metropolitana allora se conoscete la leggenda metropolitana del cane di luzzi detto questo scrivete no tu non anticipare cerchiamo di vedere ti faccio fare la fine del cane di luzzi cosa significa perché fermati ci sono varie leggende a Falconara c'è una leggenda ci arriviamo tra poco vediamo se le persone interagiranno e diranno la loro se la conoscono prima di tutto ecco ecco se conosco la famosa leggenda del cane di luzzi e il significato e il significato va bene per me la conoscono però intanto andiamo al programma di domenica come Bologna-Lazio a che punto sei arrivato Napoli-Atalanta c'è Bologna-Lazio sabato sera ma dovevi dire la Lazio sì esatto la Lazio-Mico Missavice che sta giù di morale Luiz Alberto e poi c'è il problema di immobile che però hanno un giocatore davanti che fa ballare tutti Pedro 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 chi è la canzone di Pedro? no però però non ballare più cioè già io sono rimasto ieri Raffaella Carrà sì no ma Raffaella Carrà quello che vuoi però non ballare non ballare più come fai a giocare il centrocampo del Lazio è fortissimo giocano in otto giocano in otto c'è Milinkovic e Savic poi c'è Filippo Anderson poi c'è Luis Alberto cioè questi giocano tutti con due sono sei esatto non otto vabbè otto poi ci mettiamo non c'è non c'è l'altro giocatore che c'ha il doppio nove detto questo è un problema la Lazio senza immobile vediamo se riesce e Bologna non è un momento facile incontrare il Bologna perché comunque per niente proprio al mondo è Europa League io metto un bel pareggio così la Juve si recupera e va bene Lezie con il Torino la squadra di Conte oh andiamo alla giornata di domenica caro Alessandro eccola qua c'è Falcone lunch match c'è Falcone poi c'è un giocatore che in mezzo al campo e alla mattina presto si fa sentire il signor Gallo il giocatore mio preferito del Lecce sai chi è? non lo voglio sapere Baschirotto Baschirotto è grandissimo poi ci abbiamo Blin questo è Blen Blin poi ci abbiamo Yulmand Yuland Joyland poi ci abbiamo Gardland c'era pure il giocatore poi Streffezza un grandissimo giocatore del Lecce per me meritava una grande squadra e poi ci abbiamo il figlio è arrivato sta dimostrando quest'anno Di Francesco dall'altra parte il figlio di Di Francesco Sissè è il Sissè famoso non è il Sissè famoso non è il Sissè famoso perché è scritto in maniera completamente diversa è scritto Cesai che si legge Sissè esatto dall'altra parte abbiamo Sanabria un bomber particolare Caramù è il nuovo bomber del Torino Caramù una caramella è diventata ma io ne faccio due di fantacalcio secondo te anche una persona che si vuole fare un'idea sulle formazioni e sente te che caramù è quel e storpi ogni nome che tipo di idea io non ci ho capito un tubo su chi gioca chi non gioca è importante non capirci un tubo anche perché se capisci capisci che non hai capito perché se capisci Caramù poi Yulich fortissimo è Miranciuk che ce l'ho io a fantacalcio abbiamo Miranciuk dannata che tira sempre da fuori single questo ragazzo poverino non trova mai la compagna è sempre da solo non trova nessuno è single single poi questo qui stai attento questo giocatore qui rischia di fregarti il posto da giornalista quando finirà la carriera giocatore ci abbiamo buongiorno 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 si confà proprio esatto la transition io ho già proposto di portarlo buongiorno in televisione ho i miei dubbi sul fatto che lui possa essere d'accordo però ho detto a fine carriera a fine carriera a fine carriera e poi dopo il suo amico di stanza e buonasera buonasera detto questo ci abbiamo ecco a posto la pubblicità vittoria del Torino Torino Cremonese Fiorentina Baracchio non lo mette in formazione hai a disposizione sei minuti per espletare Cremonese Fiorentina Verona Monza Roma Sassuolo Juve Sampdoria e la partita del Milan Verona Monza Vittoria del Verona su Monza passeggia e così almeno riapre un po' la lotta per la salvezza passeggia passeggia come facevi tu ieri con il cane quando sei scappato dal cinghiale perché il Verona passeggia perché c'è una persona in squadra che è fortissimo è un imperatore è un faraone è un faraone faraoni Duda e fare la canzone Dudi Duda vabbè detto questo vittoria del Verona Roma Sassuolo vittoria della Roma il Sassuolo non gioca non so se è squalificato speriamo di no perché sono messo veramente Bairami che ha fatto il gol del 3 a 2 mi piace Bairami Juve Sampdoria quanti ne mettono su Teddy Cozze Vlaovic Miretti Costici Brabbiu Locatelli Fagioli Bremer Bonucci Quadrado Danilo Perin addirittura Perin perché Perin perché siccome la Juve dovrà giocare diverse partite perché c'è il ritorno e poi c'è l'Inter nella prossima partita e come esempio la Roma c'è il derby Roma-Lazio sì sì la prossima detto questo dall'altra parte purtroppo mi dispiace la Samp perde le partite perché al centrocampo c'è un giocatore che purtroppo è un po' rincon come la famosa frase canzone di Lino Vanfi alle parentesi approfitto perché ci è arrivato questo messaggio e visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura e si parla anche di sport oggi venerdì 10 marzo alle ore 16.30 presso il centro polisportivo comunale di Vallemiano a 4 anni esatti dalla scomparsa di Gigi Luigi Stefanelli presidente della storica società sportiva Garibaldina Olimpia e cittadino benemerito per le innumerevoli attività sportive culturali e sociali e organizzate per la città il comune gli dedicherà il centro polisportivo di Vallemiano era una notizia che ci tenevamo a dare perché ce l'avevano segnalata poi ovviamente ce ne occuperemo anche noi ma intanto fisso l'appuntamento per oggi ad Ancona ore 16.30 di fronte l'ingresso della piscina di Vallemiano dove verrà anche apposta una targa commemorativa a lui dedicata prego Ale scusa completa pure scusa fatto bene a dire questa notizia troviamo serie però adesso c'è Mila salernitana dall'altra parte c'è l'anatore per me uno dei grandi centrocampisti di tutti i tempi addirittura mi piace come giocatore mi piaceva poi ha giocato anche in una squadra che non mi ricordo quale la Juve oltre che la Fiorendina il Milan c'è il purtroppo era ovviamente messias questi periodi qui purtroppo andiamo verso la passione e quindi per forza non può giocare e quindi farà una brutta fine però troppo messias fino ad aprile detto questo dai Mila vince a mani basse contro la salernitana la salernitana c'è o cocia l'ovo c'è in porta a mani basse adesso le segno tutte Tomori Hernandez Carabria Tonali Benasser Brian Diaz che in Coppa ha giocato benissimo cioè proprio si è mangiato ma perché è piccolino capito adesso siccome si è alzato tuttivamente i giocatori della Serie A la media mi sembra 1,80 1,84 lui è piccolino ci passa sotto le gambe quindi come lo fermi c'è una grande tecnica poi dopo commette tanti errori tante legerezze non calcia in porta esatto c'è avuto un'occasione l'ha stoppata di piatto doveva mettere era 2-0 quindi vittoria 4-0 del Milan tutte 4-0 cioè le squadre che per lui vincono vincono stasera il Milan lunedì solo la Juve rimane molto abbottonata e prudente chissà com'è la domanda la lasciamo per lunedì no no la domanda non la lasciamo per lunedì piuttosto sacrifico una clip dell'allenatore del pallone l'allenatore del pallone ci vuole vediamo la prossima settimana poniamo la domanda no io la domanda voglio io la domanda ti faccio fare una brutta fine oppure ti prendi rubicchier d'acqua i due significati no io non posso io voglio e anche Diego Menna sogna che sta di là e salutiamo almeno ci dici la versione rancone tana la versione rancone tana ti faccio fare la fine del cane di luzzi che praticamente narra la famosa leggenda che il famoso cane di luzzi è caduto dal balcone di sotto non è morto e poi mentre attraversava la strada perché il palazzo stava sulla strada è passato il padrone con la macchina giusto? e l'ha investito quindi questa è la versione rancone tana quindi luzzi luzzi stesso luzzi stesso esatto quindi ti faccio fare la fine del cane di luzzi metaforicamente significa che ti faccio soffrire tanto invece a falconara io lo sapevo che non resisteva fino a lunedì un'altra leggenda un'altra gira questa leggenda è che il cane di luzzi effettivamente è caduto anche a falconara sempre dal balcone sempre dal balcone ma come cade un cane dal balcone? ma non è morto non è morto praticamente quindi non solo ha superato tantissime altre prove poi alla fine è morto sono incastrati i cosiddetti sulla porta e quindi è un modo per dire te fai tanto il grande e poi ti perdi in un bicchiere d'acqua quindi queste sono le due versioni quindi